ciao a tutti amici di youtube io sono travatan91 e buon 2023 primo video di quest'anno sarebbero dovuti essere i due video sul meglio e il peggio del 2022 sono stati registrati sto finendo di montarli avrei voluto fare il 6 il video sul meglio del 2022 l'8 gennaio il peggio invece credo che finirà per essere 7 gennaio meglio 8 gennaio peggio perché il 6 gennaio appunto lo dedico a questo piccolo video ovvero la reaction al trailer di un film che sto effettivamente aspettando e ormai ufficiale il mio superpotere è chiamare i trailer perché feci la reaction al trailer di transformers di risveglio e dissi strano però che non sia ancora uscito un trailer di guardiani della galassia 3 un'ora dopo era uscito il trailer di guardiani 3 e invece questa volta che succede sono a facce di nerd stiamo parlando del film che più aspettiamo per il prossimo anno io cito appunto il film in questione dico strano non sia uscito il trailer e mi dicono no ma guarda che è uscito adesso mentre eravamo in live e guardo e sì effettivamente è uscito il trailer come leggera il titolo di renfield progetto un po particolare perché vuole essere una nuova versione della storia di dracula ma dal punto di vista di renfield personaggio che è sempre stato più che secondario nel senso che nel romanzo originale è semplicemente un pazzo rinchiuso in manicomio che in qualche modo nella sua follia predice l'arrivo di dracula tanto che lo chiama maestro e poi nelle una cosa che è stata molto sdoganata dalle interpretazioni successive è che lui va per fare la trattativa immobiliare con dracula prima che arrivi jonathan harker però dracula lo ipnotizza rendendolo suo schiavo per diciamo preparargli il terreno quindi poi renfield viene rinchiuso in quanto considerato pazzo arriva jonathan a fare la compavendita effettiva e poi si sviluppa tutta la vicenda qui appunto sarà renfield il protagonista interpretato da nicola solto ovvero il giovane bestia dei film degli x-men a interpretare dracula invece avremo nicolas cage cosa che uno pensa oh mio dio sarà un dracula ridicolo ma ricordiamoci che negli ultimi tempi nicolas cage sta cercando di riscattarsi di non essere più un semplice meme vivente e quindi sono molto curioso di vedere cosa combinerà in in questo film a dirigere il film tra l'altro sarà chris mckay ovvero il regista di the lego batman quindi insomma uno che ci ha regalato una perla nel film animazione ha fatto anche la guerra di domani che non ho visto ma mi dicono non essere chissà quale capolavoro vediamo un po vediamo se con questo film si si riscatta e vediamo comunque io sono molto curioso tra l'altro quest'anno dovrebbe anche uscire un altro film su dracula ispirato al famoso viaggio di quando viene caricato su una nave per arrivare in inghilterra il film era appunto quello specifico segmento di storia che normalmente viene molto tralasciato in quest'epoca di spin off si cerca appunto di narrare la stessa storia da punti di vista diversi che se sfruttata bene può in realtà essere una cosa interessante poi molto spesso diventa semplicemente una cosa fatta così tanto per e quindi ha avuto una nomea negativa vediamo se queste due opere riusciranno diciamo a ribaltare questa cosa quindi io sono qui pronto con il trailer che come al solito vedrò in italiano lo metterò in bianco e nero specchiato insomma con tutto un po di cose sperando che non mi rompano le palle col copyright che dico io io capisco le case di produzione che non vogliono che le loro creazioni siano sfruttate da altre per guadagnare ma di fatto comunque facendo le reaction noi pubblicizziamo il trailer quindi magari uno che non l'ha visto può interessarsene o comunque dargli solo un'occhiata anche solo in vista della reaction quindi rompere i coglioni in questo senso non non mi sembrerebbe il caso comunque vabbè c'è un conto e se io non so prendo il trailer lo carico così come sul mio canale e allora vaffanculo avrebbero ragione a denunciarmi o anche se prendessi un film e lo caricasse intero sul mio canale capisco che si tratta di un film con un copyright molto grosso capisco perché le case di produzione si incacchino però per il trailer mi sembra veramente assurdo vabbè detto questo appunto anche come compagno di visione il fanco del dracola di bella lugosi con la canela in mano guardate qua che carino e appunto prepariamoci allora ok spero non mettiamolo mettiamolo che si sente il volume ma non troppo speriamo in bene ragazzi l'ho già fatto andare senza guardarlo giusto per fare per essere sicuro che andasse tutto e quindi prepariamoci meno tre meno due meno uno play ok ok perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui ok neve ma che cazzo sta succedendo ma quella è l'acqua fila sì acqua fila non sapevo ci fosse anche lei che cazzo sta succedendo grazie mi hai salvato la vita hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata è stato un gioco di forza se ti spieghi è stato il mio capo a darmi questo potere poi ebbè sai eccolo nooo nooo qui sono l'oscuro peraltro il signore della morte per il più io sono Dracula ok ovviamente qui c'è molto di più del semplice narcisismo lo ammetto pensavo ad un horror non ad una commedia chi se ne frega mi ha conquistato l'avevo detto secondo film che aspetto di più quest'anno confermo confermo ora lo aspetto da dio potrebbe essere veramente una roba divertentissima cioè con Renfe che è diventata una metafora delle persone sfruttate dai loro dai loro capi trasportate ai giorni nostri no 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 è divertentissima cioè ci potrebbero fare tipo la contro commedia con tipo Igor sfruttato da Fragestern l'avranno fatto Victor la storia segreta di Fragestern in cui il protagonista era Igor l'ho anche recensito per la rubrica Monsters Legacy e nulla io sono curiosissimo adesso sembra che questa nuova serie di film sui mostri di Universal l'abbiamo già avuto allora l'invisibile è della Bluemouse questo non mi pare di aver visto il logo è della Universal che effettivamente è collegata alla Bluemouse però aspettate che controllo un secondo no ho visto solo il logo di Universal quindi non è coprodotto dalla Bluemouse ah beh poco male io cioè allora avevo visto appunto Dragon quella che faceva questo sorriso assurdo e pensavo ma cosa c'entra con l'horror che dovrebbe essere semplicemente appunto non dovrebbe essere un horror quindi appunto sono sorpreso ma sorpreso in maniera assolutamente piacevole ecco qua Acquafine ah Acquafine si chiama Rebecca Quincy Quincy era uno dei era uno dei tre spasimanti di Lucy in nel romanzo originale quindi appunto hanno creato questo personaggio X-9 che hanno messo la situazione poi dovrebbe poi c'è Ben Schwartz che fa Teddy Lobo poi vedo Chris Marcos Ella Vanessa ok non vedo altri nomi che citano effettivamente il il romanzo ma credo che qui le citazioni saranno ridotte all'osso ah leggo qui che il film è basato su un'idea originale del fumettista Robert Kirkman ok e che inizialmente avevano scelto per il progetto Dexter Fletcher che sarebbe soprattutto attore come regista cosa aveva fatto ah il regista di Rocketman ok ed era anche non accreditato a Bohemian Rhapsody l'aveva finito dopo i casini con Bryan Singer però a me non mi era dispiaciuto però anche Chris McKay questo sembra veramente un film nelle sue corde molto autoironico immagino che sarà anche pieno di citazioni molto alla Lego Batman e personalmente appunto non vedo l'ora e tra l'altro appunto anche le sequenze d'azione con Renfield che è questa sorta di karateca assurdo che come dice Guafina ma scusami hai tranciato le mani a uno con con i piatti mi aspetto veramente una cosa folle e nulla io più ci penso più più non vedo l'ora tra l'altro non so se sto un po' ripulendo vari video sto facendo pulizia di qualche video piccolo e poco visto in particolare vari reaction che non si è cagato nessuno questa invece mi sta proprio che me la terrò perché wow niente non c'è tantissimo da dire appunto perché è talmente diverso che non puoi neanche fare troppi confronti con le altre trasposizioni e questo in realtà può essere un bene perché appunto sarà una trasposizione che vivrà di vita propria sotto alcuni aspetti molto larga lo paragonerei al Pinocchio di Del Toro cioè qualcosa che non si è mai visto prima il Pinocchio di Del Toro comunque era molto debitore delle vecchie trasposizioni soprattutto al classico Disney qui invece sembra una cosa veramente del tutto ex novo Nicolas Cage qui torna a fare appunto la comedia non la roba seria ma veramente qui sembra proprio sembra quel ruolo sopra le righe adatto a lui appunto talmente fuori di testa che dice mangiamo wow 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 io non non vedo tra l'altro Nicolas Solter aveva anche fatto More Buddies quel film in cui era uno zombie innamorato l'idea di base in realtà era anche carina perché c'era lui che praticamente faceva il cioè raccontava di quando di come si sentiva essere zombie eccetera purtroppo la cosa poi veniva rovinata tutto da voler essere l'ennesimo film romantico col mostro in stile Twilight qui diciamo che può anche essere l'occasione di Olt per riscattarsi quindi lo vediamo in un progetto di mostri ma molto più divertente divertito e nulla io sono assolutamente galvanizzato speriamo bene speriamo che poi il film non si riveli una ciofeca però io ora mi sfrego tantissimo le mani era uscito tra l'altro il trailer del nuovo film della casa quello come ora potrebbe anche essere interessante ma nel franchise della Devil Dead non ce lo vedo per niente questo trailer invece mi ha galvanizzato tantissimo quindi niente io qui ho un sorriso a 32 denti ma nessuno di questi canini e nulla reaction breve ma wow 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 detto questo io non vado oltre il video finisce qui appunto ho visto il trailer una volta sola magari poi me lo rivedo mi vengono in mente altre cose possiamo discutere nei commenti quindi appunto se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate e ci vedremo appunto al video dei migliori e peggiori film del 2022 ciao ciao ragazzi un saluto anche dal caro Dracula